Buongiorno, bentornati al TG2000. Andiamo subito ai titoli. Covid d'Italia aumentano i casi verso la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre, ma sarà una scelta collegiale del governo. Causa pandemia più pensioni che buste paga, lo rileva la CGA di Mestre. Lo squilibrio è più forte al Sud. 25 anni fa il massacro di Sebrenitz è il più grave genocidio in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Siamo subito al punto sul coronavirus in Italia. Salgono ancora i contagi, 276 in più, 12 le vittime. Il mondo della politica si divide sulla proroga dello stato d'emergenza. Caterina Dall'Olio. Sono cinque e non ci sono mai state da quando è partita la fase 2 così tante regioni con l'indice di contagio, il famoso RT, sopra l'uno. In questa condizione sono il Lazio, la Toscana, il Piemonte, l'Emilia Romagna e il Veneto. Salgono ancora per il terzo giorno consecutivo le nuove infezioni in Italia, mentre restano a 12 decessi delle ultime 24 ore. Solo quattro, Basilicata Molise, Sardegna, Abruzzo, a zero casi nell'ultima giornata. Sono i nuovi focolai a spingere verso l'alto i contagi. Le aziende di trasporto pacchi sono la principale causa di preoccupazione. Prima la Bartolini in zona Roveria Bologna, ora la TNT, sempre nel capoluogo emiliano. Nello stabilimento per ora sono 29 i positivi, di cui tre sintomatici. Sono tutti in isolamento ed è in corso un ampio screening anche tra i familiari. Resto attivo un cluster individuato in cinque macelli e salumifici del Mantovano. 70 persone sono risultate positive e altre 200 sono in isolamento. Anche in Toscana sono scoppiati diversi focolai dovuti a soggetti in arrivo dall'estero e collegati a nuclei familiari che vivono in appartamenti sovraffollati. Quando finirà questo calvario? Questo calvario finirà quando avremo il vaccino contro il coronavirus. I tempi prevedibili per il vaccino, la scoperta, la messa in produzione del vaccino, nella migliore delle ipotesi, è fine 2020. Da una delle città più colpite dal covid sul fronte del tessuto economico, Venezia, il premier Giuseppe Conte conferma che sta pensando di prolungare lo stato d'emergenza fino al 31 dicembre. La proroga potrebbe arrivare già la prossima settimana. Il 14 luglio scadrà il DPCM attualmente in vigore. Quello che contiene tra l'altro le modalità di ingresso in Italia e la sospensione delle crociere. Immediata la reazione del centrodestra, contrario a questa prospettiva, per Walter Ricciardi, invece, docente alla Cattolica di Milano e consulente del ministro Speranza, la proroga è inevitabile. Stiamo dando al mondo l'idea di essere ancora in pieno dramma, che tutti i sacrifici non sono serviti a niente, mentre è vero il contrario, il covid è stata un'emergenza ospedaliera, che oggi, lo dicono i numeri, è finita, ma viene comunicato il contrario. Lo sottolinea l'infettivologo Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino, che aggiunge anche la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Se così sarà, mi pare francamente un po' spinta. E intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci loda per la gestione della crisi covid. È possibile controllare la situazione, ha dichiarato il direttore generale dell'OMS, come dimostrano Italia, Spagna e Corea del Sud. Marco Bergamaschi. Ci sono molti esempi in tutto il mondo che hanno dimostrato che anche se l'epidemia è molto intensa, può ancora essere riportata sotto controllo. E questo, nonostante il numero di casi, sia più che raddoppiato nelle ultime sei settimane. È quanto ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, a Ghebreyesus. E alcuni di questi esempi sono Italia, Spagna, Corea del Sud. Tra gli esempi virtuosi per l'OMS ci sono Italia, Spagna e Corea del Sud. Solo un'azione aggressiva insieme all'unità nazionale e alla solidarietà globale può invertire la curva della pandemia, ha poi ribadito Ghebreyesus, che ha anche sottolineato le difficoltà dei paesi poveri, che hanno ridotto o nessun accesso a servizi sanitari di qualità nell'affrontare la pandemia. pandemia, i cui numeri continuano ad essere molto alti. Per i conteggi della Johns Hopkins University, in base alle comunicazioni ufficiali giunte da tutti i paesi del mondo, i decessi per il virus a livello planetario sono più di 560.000, mentre i contagi sfiorano ormai i 12 milioni e mezzo. Al primo posto in entrambe le drammatiche classifiche, gli Stati Uniti, dove nelle ultime 24 ore si registrano più di 63.000 nuovi casi e altri 774 decessi, sempre secondo i dati della Johns Hopkins. Nel complesso, ora i contagiati sono più di 3 milioni e le vittime oltre 134.000. Al secondo posto il Brasile, dove i contagi totali sono 1.800.000, più di 45.000 nelle ultime 24 ore i nuovi positivi e 1.200 i decessi, che portano al conteggio complessivo delle morti nel paese, sopra quota 70.000. Preoccupa anche la situazione dell'India. al terzo posto per il numero di contagi, oltre 920.000 casi raddoppiati in tre settimane, 27.000 dei quali nell'ultimo giorno, mentre le nuove vittime per i dati ufficiali sono 520 nelle ultime 24 ore. A maggio pagate più pensioni che Buste Paga, lo afferma con un notevole grado di certezza l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre. Luca Licata. Un sorpasso preoccupante. A maggio il numero delle pensioni erogate ha superato quello degli stipendi. A renderlo noto la CGA di Mestre, che punta i riflettori su quanto avvenuto negli ultimi mesi. L'esplosione dell'epidemia di coronavirus ha generato una crisi del lavoro. Secondo l'analisi, il numero di coloro che avevano un impiego lavorativo lo scorso maggio è sceso a 22,77 milioni di unità, mentre invece sono cresciuti gli assegni pensionistici. Già a gennaio 2019, infatti, ammontavano a 22,78 milioni. Da un anno e mezzo a questa parte, poi, il totale complessivo delle pensioni è aumentato di almeno 220 mila unità, se si tiene conto del normale flusso in uscita dal mercato del lavoro da parte di chi ha raggiunto il limite di età. L'introduzione di quota 100 ha dato poi un impulso in più, ma il vero problema rimane il progressivo invecchiamento della popolazione italiana. È necessario, sottolinea l'Associazione degli Artigiani e delle Piccole Imprese, investire per favorire le nascite. A soffrire maggiormente il problema del rapporto numero di pensioni occupati, le regioni del sud fanno eccezione tre province meridionali, Teramo, Ragusa e Cagliari, dove il numero dei lavoratori attivi supera quello dei pensionati. Siamo, dunque, una popolazione che invecchia, fenomeno che porta a conseguenze sociali, ma anche economiche. Il futuro potrebbe non essere facile, a rischio la sostenibilità della spesa previdenziale, che attualmente supera i 293 miliardi di euro all'anno, ovvero il 16,6% del PIL. La cronaca, la polizia postale, ha scoperto una chat dell'orrore tra giovanissimi. 20 minori tra i 13 e i 17 anni si sarebbero scambiati immagini di orribili violenze con contenuti di elevata crudeltà. L'inchiesta, coordinata dalla Procura dei Minori di Firenze, è nata dalla denuncia a Luca di una madre che aveva scoperto, filmati hard anche con bimbi, sul cellulare del figlio 15enne, rivelatosi poi l'organizzatore dell'orribile attività criminale. Ed ancora cronaca, parla per la prima volta il fratello di Mario Cercello Rega, il carabiniere ucciso quasi un anno fa da due giovani americani. Beatrice Bossi Sembra ieri, non sembra vero tutto ciò, però la realtà è questa, la realtà è difficile da accettare, però dobbiamo andare avanti, però vogliamo giustizia. Il fratello del vicebrigadiere non ha perso neanche un appuntamento con la giustizia. Dal 26 luglio del 2019, giorno in cui hanno aggredito e ucciso Mario Cercello, Rega ha seguito tutte le udienze del processo a carico dei due ragazzi americani accusati di omicidio. Sono Christian Natale Yort e Finnegan Lee Elder, ventenni entrambi, quest'ultimo re ho confesso di aver inferto le 11 coltellate al militare e che punta ora ad ottenere l'infermità mentale. Nel 2018 hanno dichiarato i suoi legali in aula, tentò il suicidio e quella maledetta notte romana era sotto l'effetto di ansiolitici. Le conclusioni della perizia psichiatrica arriveranno il 22 luglio, a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio. Intanto ieri al Tribunale di Roma è stata ascoltata anche l'ultima telefonata della centrale operativa con i due carabinieri in servizio. La voce del vicebrigadiere ha commosso la famiglia, che all'uscita ha voluto ricordarlo ancora una volta. Un ragazzo esemplare, un uomo esemplare, cioè il top. Ho perso mio padre 11 anni fa, lui l'ha sostituito e amava, amava il suo lavoro, sempre l'arma, amava l'arma, amava la famiglia, amava il contesto, amava aiutare le persone, ci metteva il cuore su qualsiasi cosa che facevano. Sono proseguite per tutta la notte le ricerche dell'elicottero precipitato ieri nel Tevere da parte dei vigili del fuoco. Dopo aver individuato la carcassa del velivolo nei pressi di Nazano Romano, ora il personale del nucleo sommozzatori sta dando priorità al recupero dei corpi delle persone che erano all'interno dell'elicottero, un imprenditore 78enne ed un'amica. Mistero sull'origine e la destinazione del volo, terminato con uno schianto dopo l'urto con i cavi dell'alta tensione. Andiamo in Sicilia, fratel Biaggio ha sospeso il digiuno tra le montagne di Palermo, intrapreso 40 giorni fa per essere solidale con le famiglie disagiate, con i giovani, gli anziani, i carcerati, le prostitute, con chi non ha riconoscimenti né diritti. Sto rientrando in missione Speranza e Carità, ha dichiarato con il cuore pieno di gioia. Sento di portarla e di donarla a tutti e di continuare a portare a tutti questo messaggio di pace e speranza affinché questa società possa migliorare. Cambiamo decisamente argomento. 25 anni fa il massacro di Sebrenica, la commemorazione della tragedia che provocò anche la deportazione di 20.000 donne e bambini, oggi nella cittadina con un'affluenza ridotta a causa della pandemia. Marco Burini. Dicono che qui in Europa non siamo mai stati così a lungo in pace. Dicono che i giovani non hanno mai visto la guerra. Dicono che gli orrori del nazifascismo sono una brutta pagina del passato. Dicono. Ma quello che è accaduto a Sebrenica, in Bosnia e di Erzegovina, la mattina dell'11 luglio 1995, fa evaporare i luoghi comuni. I miliziani serbo-bosniaci del generale Mladic rastrellano e uccidono tutti i maschi della città, dai 12 ai 77 anni. Oltre 8.000 persone, 8.372 secondo le stime ufficiali, massacrate perché musulmane di una cittadina musulmana, i cosiddetti bosniacchi, dentro una regione a maggioranza serbo-ortodossa, nel corso di una guerra iniziata nel 1992 con la dissoluzione della Jugoslavia. Quella di Sebrenica è una strage pianificata e portata avanti per tre giorni, con i maschi della città separati uno a uno da donne e bambini e concentrati in scuole e magazzini abbandonati, poi portati fuori dalla città e uccisi con un colpo alla testa. I mucchi di cadaveri spinti con i bulldozer in fosse comuni. Ne hanno trovate decine e i resti di oltre 6.500 persone sono stati identificati grazie al DNA, ma ancora si scava e si trova. I miliziani di Mladic finiscono il lavoro indisturbati, malgrado se Brenica sia circondata dai caschi blu dell'ONU. Soldati olandesi che si voltano dall'altra parte e addirittura in qualche caso consegnano loro stessi ai serbi i bosniacchi rifugiati nel compound dove sventola la bandiera dell'ONU. Una vergogna che l'attuale segretario delle Nazioni Unite Guterres ha riconosciuto, parlando di un fallimento che perseguiterà la nostra storia per sempre. Perché in questa guerra davanti alle nostre coste, che abbiamo visto in diretta a TV nei primi anni 90, tutte le parti in conflitto hanno dato il peggio di sé, occidentali compresi, con un piano di pace che di fatto ha assecondato la pulizia etnica dei serbi, per la quale Mladic e Karadzic si sono presi l'ergastolo. Ma per rendere giustizia alle vittime, la strada è ancora lunga. Basta vedere i volti di chi ha partecipato alla cerimonia ufficiale stamattina a Sebrenica. Mancano ancora i resti di un migliaio di vittime. E poi, finché non capiamo che i Balcani ci riguardano, che il Novecento inizia a Sarajevo e finisce, dunque non finisce a Sebrenica, ci racconteremo storie che servono solo a tenere in piedi potenti e umiliare gli umili. Ed ora vi mostriamo le immagini della nave scuola Amerigo Vespucci, che ieri sera ha salutato la città di Palermo, sfilando sotto costa a distanza ravvicinata da Capo Zafferano a Capogallo e tra Mondello e Capogallo. A bordo del Vespucci, vero e proprio gioiello della Marina Militare, considerato il veliero più bello del mondo, ci sono 106 allievi della prima classe dell'Accademia Navale. Intorno alle 20.30 l'equipaggio ha celebrato la cerimonia della Maina Bandiera. Da terra, centinaia di persone hanno salutato il passaggio della nave che, come di consueto quest'anno, in segno di ripartenza dopo il Covid, si è illuminata con il tricolore. In occasione della festa di San Benedetto, patrono d'Europa, la nostra emittente trasmette stasera, in diretta alle 18, la messa presieduta dal Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana nella Chiesa di Santa Cecilia in Trastevere, a Roma, per imbucare la rinascita dell'Italia e dell'Europa. A seguire il TG2000. È tutto per questa mattina, grazie per averci seguito, restate con noi e buona giornata. Grazie.